Adrano ricorda i suoi martiri antifascisti che hanno perso la vita nei lager nazisti conservando per sempre i propri ideali che oggi sono custoditi nello scrigno della memoria. Ed oggi proprio nel giorno della memoria l'amministrazione comunale, come ogni anno, ha voluto ricordare il sacrificio del professore Carmelo Salanitro, condannato e poi ucciso per mano dei nazisti perché non si è piegato, portando sempre avanti il pensiero della pace durante la seconda guerra mondiale. Un corteo composto dall'amministrazione comunale dalle forze dell'ordine, da associazioni e semplici cittadini è partito da Piazza Umberto davanti Palazzo Bianchi per poi giungere sino all'interno della villa comunale dinanzi al mezzo busto di Salanitro dove è stata deposta una piccola corona dall'oro ma anche dei mazzi di fiori portati dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, sezione di Catania e dalle scuole. Oltre a Carmelo Salanitro morto nel campo di Mauthausen in Austria il 24 aprile del 1945 sono stati ricordati altri quattro concittadini adraniti morti sempre nei campi di concentramento nazisti, Alfio Caruso, Alfio Longo, Giovanni Stissi e Ignazio Zappalà. Il sindaco Angelo Dagate prendendo la parola ha ringraziato i presenti e ha poi letto un messaggio per rimarcare il sacrificio delle vittime del nazismo? Certamente è il giorno della memoria, l'abbiamo fatto ricordando dei congetti più generali per fare memoria, per non dimenticare perché ciò non accade, l'abbiamo fatto anche per ricordare i nostri concittadini, Carmelo Salanitro lo conoscono tutti, questo intellettuale, professore, politico, martire, deportato che ha sacrificato la sua vita per la libertà e per la democrazia e però mi piace ricordare gli altri quattro adraniti che purtroppo ci hanno perduto la vita in quelle vicende tragiche che sono Caruso Alfio, Longo Alfio, Stissi Giovanni e Zappalà Ignazio. Sono contento sono stati tanti ragazzi perché è a loro che passiamo questa eredità, questa memoria. Il prossimo appuntamento è il 24 aprile. Il 24 aprile in occasione del 75esimo della morte di Carmelo Salanitro faremo rappresentare un melodramma al teatro Bellini di Savi Manna, è stato rappresentato anni fa in un teatro di Catania, ha avuto grande successo, uno dei protagonisti è Carmelo Salanitro, si chiama Ogni Storia, la sua musica si riferisce all'Olocausto, in generale. Lo faremo di mattina per le scuole e di sera per chi si prenota ingresso libero. Nel pomeriggio invece ricorderemo oltre all'uomo il politico, un piccolo convegno, il politico Salanitro e i suoi ideali politici.